Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vediamo un nuovo metodo per ridurre l'input delay, o più precisamente l'input lag, che per chi non lo sapesse vuol dire cercare di ridurre il più possibile il lag mentre giochiamo. E allo stesso tempo utilizzeremo dei trucchi che ci permetteranno anche di velocizzare il nostro PC nei tempi di risposta. Quindi andiamo a vedere subito come fare. Se avete Windows 11 andate sull'icona di Start, ci fate tasto destro e andate su Gestione dispositivi. Se avete Windows 10 potete fare una ricerca attraverso la lente di ingrandimento che trovate sulla barra delle applicazioni, oppure semplicemente cercando sullo Start, dove andrete a scrivere semplicemente Gestione dispositivi. A questo punto ci cliccate sopra. La prima cosa che andremo a vedere è se siano aggiornati i driver del nostro harddisk interno o SSD, della nostra tastiera, della nostra scheda di rete, della nostra scheda video e del mouse. Quindi prima cosa da fare, apriamo Unità Disco. E su tutto quello che ci appare andremo a fare un tasto destro, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver. Verrà fatta una ricerca per verificare se avete il driver aggiornato. Se così non fosse, il computer richiederà un po' di tempo per permettere automaticamente di scaricarlo e di inserirlo all'interno del vostro computer. Ci tengo a dire che è tutto altamente sicuro, quindi non preoccupatevi. Poi clicchiamo su Chiudi, facciamo lo stesso con l'hard disk che abbiamo sotto e se, come nel mio caso, non c'è bisogno di aggiornarli, andiamo avanti. Chiudiamo quindi il menu a tendina e andiamo su Tastiere, facendo la stessa cosa, quindi selezionando tutto quello che ci appare, tasto destro, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver. Chiudi. La stessa procedura la facciamo sotto, aggiorna driver, chiudi. Ovviamente andiamo a controllare anche su Schede Video, che è la cosa più importante se giochiamo, perché dobbiamo sempre avere i driver, soprattutto della scheda video, aggiornati. Questo per non avere problemi di lag e soprattutto per avere più fluidità di gioco. Andiamo su Schede di Rete, selezioniamo tutto quello che abbiamo e cerchiamo anche qui. Se debbano essere eseguiti degli aggiornamenti di driver, invece in questo caso non c'è bisogno. Infine ci manca il mouse, quindi controlliamo anche il mouse, nulla. Perfetto, questo vuol dire che io ho i driver aggiornati. A questo punto c'è da eseguire un trucchetto, sempre qui su Gestione Dispositivi, ma aprendo il menu Dispositivi di Sistema, dove andremo a cercare High Precision Event Timer. Ci faremo un tasto destro, Disabilita Dispositivo. Cliccate su Sì e adesso ragazzi vi assicuro che ci sarà un miglioramento nell'input delay, infatti noteremo più fluidità. Fatto questo chiudiamo e andate sul link che vi lascio in descrizione sotto questo video, dove dovrete attendere 5 secondi e cliccare su Skip in alto. Una volta fatto vi appare questo sito dove noi andremo a cliccare sulla freccia per scaricare il pacchetto. Una volta scaricato lo andiamo a estrarre, scegliamo il percorso dove vogliamo che vadano a finire i file una volta estratti e poi clicchiamo su OK. A questo punto installiamo il setup, clicchiamo su Next, nuovamente su Next, accettiamo i termini Next, 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 Next e Install. A questo punto togliamo la seconda spunta e clicchiamo su Finish. Possiamo cancellare questi file che ormai non ci servono più. Comunque vi appare questa interfaccia, clicchiamo su I Agree, adesso dobbiamo andare su Disable Background Apps e fare in modo che questa spunta sia attiva. Questo perché se avete Windows 11, nella normalità dei casi, quindi andando nelle impostazioni di Windows, non è più presente la funzione di disattivare tutte le applicazioni in background. Quindi sono dei programmi che rimangono aperti a nostra insaputa e che rallentano il nostro PC. Funzione che era presente Windows 10 e che ci permetteva di disattivare queste applicazioni nascoste. Mentre con Windows 11 vi stavo dicendo che non è più possibile farlo. Per questo motivo, installando il programma che vi ho fatto scaricare, abbiamo la possibilità di disabilitare tutte le applicazioni che lavorano in background. Facendo questo ovviamente avremo anche un boost di FPS e velocità di risposta nell'apertura di applicazioni e giochi su PC. Quindi attiviamo questa spunta e poi su Search for a tweak andremo a scrivere Windows App. Selezioniamo il primo, scendiamo un po' giù, fino a quando non ci appare la categoria Windows Apps e andremo a cliccare su Auto Update Store Apps. Clicchiamo su Disable Auto Update of Store Apps. In questo modo avremo anche meno problemi con la connessione ad internet, in cui magari non siamo consapevoli che il Microsoft Store sta facendo degli aggiornamenti di altre applicazioni mentre stiamo giocando. E quindi di conseguenza si crea questo sbalzo di ping elevato all'improvviso, che sicuramente non fa piacere mentre giochiamo, anzi. Quindi mi raccomando, attiviamo questa spunta per fare in modo che questo non accada. Poi clicchiamo su Disable Cortana e disattiviamo anche Cortana, quindi mettiamo una spunta qui sopra. Andiamo su Do you want to close all tabs prompt in Edge? E attiviamo anche questa. Poi andiamo su Edge Prelaunch and Tab Preloading, dove andremo a spuntare entrambe le caselle. A questo punto non ci resta che riavviare il computer cliccando su Reboot Now per rendere effettive queste modifiche. Non dovreste avere problemi, se li avete basterà togliere la spunta su tutte quelle impostazioni che abbiamo abilitato. Spero che questo video vi è stato d'aiuto, se si lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete risolto il vostro problema, se vi sono stata d'aiuto. Io vi saluto, ciao e alla prossima da MeriLight. Grazie a tutti.